Un minuto di follia, 60 secondi di buio assoluto e il Brescia crolla a Terni. Terza sconfitta consecutiva in trasferta per la squadra guidata dalla coppia Salvatore Giunta e Ivan Javorcic, dopo Avellino e Livorno, fatale anche il viaggio in terra umbra. Un 2-1 che fa male, uno schiaffo in faccia alle prospettive di vivere una settimana tranquilla, all'idea di chiudere al meglio una settimana nella quale il mercato non aveva smantellato la rosa e la svolta epocale si era definitivamente avvicinata. Un colpo da capo per le speranze di lasciare le sabbie mobile della classifica, il 2-1 del libero e liberati, è frutto di una prestazione discontinua con Zambelli e compagni a passare in vantaggio con un gol rocambolesto di Sestu, ma mai in grado di chiudere i conti permettendo il recupero e il sorpasso del gruppo allenato da Tesseri. Il 4-3-1-2 scelto da Giunta e Javorcic soffre inizialmente il 3-5-2 dei padroni di casa. Ceravolo e Avenatti sono spine nel fianco della difesa bianco-azzurra priva di di Cesare Tonucci, dall'altra parte Caracciolo e Corvia faticano, più del dovuto, a trovare Varchi con un bentivoglio non nella sua serata migliore. Malade è andata in sermo un regalo per il Brescia confezionando il gol del vantaggio di Sestu al 23esimo, tiro cross di Corvia con Brignoli a salvare miracolosamente, ma Meccariello nel tentativo di spazzare colpisce involontariamente Sestu infilando la palla in rete. Il gol scuote gli Umbri, Arcari e Lancini salvano in due circostanze una difesa ballerina. Le occasioni per chiudere i conti e andare a riposo sul doppio vantaggio capitano sui piedi di Caracciolo e Bentivoglio, ma questa volta la diabendata era in vacanza e così nella ripresa a cavallo del 23esimo e 24esimo minuto succede l'irreparabile. Avenatti riporta il punteggio in parità sfruttando, a dovere, una deviazione della difesa infilando Arcari con una girata di Mancini. Nemmeno il tempo di annotare il gol sul taccuino che arriverà a doppio e il gol vittoria della Ternana. Colì, subentrato all'infortunato Zambelli, esce male su una chiusura laterale sbilanciando completamente la difesa. Falletti pennella una palla in area di rigore sulla quale si avventa come un falco ceravolo, l'attaccante brucia, scaglia Antonio Caracciolo e con un pizzico di fortuna quella si trova la via della rete. Nel finale il Brescia prova con la forza della disperazione il gol del pareggio, Giunta butta nella mischia prima da Silva, il neo arrivato e poi Sodinna, ma senza esito la Ternana chiude con una traversa clamorosa di Crecco. Per il Brescia un duro colpo da K.O. Per il Brescia un duro colpo da K.O.